In vista delle suppletive di Monza incontrerà Cappato in questi giorni? No, non lo incontrerò ma come ho detto, anzi credo sono stato il primo a dire che l'avremmo sostenuto perché ha fatto una battaglia di civiltà, dopodiché io non condivido tutte le idee di Cappato e Cappato non condividerà tutte le idee mie, non è iscritto ad azione, ma credo che una persona che ha fatto quelle battaglie meriti di sedere in Parlamento. Percepisci un po' di paura da parte del centrodestra di perdere? Io lo spero anche perché Cappato sta facendo una campagna molto seria e impegnativa, sta facendo confronti televisivi, si è detto disponibile a farli anche con Gagliani, per Gagliani invece sembra che sia un hobby, ma purtroppo o per fortuna sedere al Senato in parola alla Camera non è un hobby, è una roba seria.